Scusa! Pronta all'intervista, signor Lorenzito? E lei è pronta alla sua seconda intervista a Las Vegas! Potrei anche risparmiarmela a questa, per fare un rewind. Ma se mi hai mostrato una foto dove sembri un sedicenne dall'anno scorso. Cos'è cambiato? È cambiato sicuramente, dai. Seconda esperienza... In bene e in male? No, in bene. Ti sei salvato, rischiavi di essere lanciato in queste cascate.